Questa bella gente è, tutto il mondo è qui, tu non vuoi restare nella tua città, tanto di lavoro e finalmente sì, è arrivato, l'Italia è qui. Allora, rifacciamo tutto, così siamo anche in diretta, va bene, io rientro, buonasera a tutti e voi, oh, grandi, siamo i più forti, bellissimo, va bene, rifacciamo, mi piace, la rifacciamo, va bene. Buonasera a tutti, ora mi piace, ora è tutta un'altra storia, ma che bello, questo è il Palio del Casale, la dodicesima edizione, siamo arrivati fin qua, oggi è stata una giornata straordinaria e ha trionfato il Lazio a Lumiere, e applausi a Lazio! Ha conquistato il drappo 2017 in una edizione davvero avvincente, ma adesso siamo giunti qua in piazza e allora tante sorprese, una serata ricca di musica, allegria e divertimento. Io, prima di cominciare, vorrei qui a fianco a me il professore dell'Istituto Virgilio di Camposano, perché? Perché ci spiegherà qualcosina, il professore Elia Nunziata della Scuola Virgilio di Camposano, perché? Perché? Perché vedo anche delle maglie colorate, ci sono anche loro, i genitori, il comitato genitore di Camposano! Allora, professore, buonasera! Buonasera, lo so che tanto impegno ci avete messo per realizzare qualcosa, adesso lascio la parola a lei per spiegare un po' che cosa avverrà tra poco su questo palco. Poi c'è il comitato genitori, quindi diamo anche una spiegazione del comitato genitori. Diciamo solamente che oggi è una domenica particolare, perché festeggiamo le mamme e quindi tanti auguri a tutte le mamme del mondo! Professore, a lei! Buonasera a tutti, e niente, quest'anno l'Istituto Virgilio ha finalmente un bel polo d'Istituto, perché abbiamo avuto il potenziamento di musica curato dalla collega Maria Grazia Cammisa, e le mamme ci hanno coinvolte quest'anno in questa manifestazione splendida, ormai sono anni che si fa a Camposano, e ci hanno detto che c'era un inno, l'inno del palio del casale, mi hanno mandato un link su Youtube, l'abbiamo ascoltato un po', abbiamo un po' modificato per i ragazzini e l'abbiamo preparato. Eccoli che arrivano! Inoltre anche noi abbiamo pensato di dedicare qualcosa a tutte le mamme, perché oggi è la festa della mamma, facciamo un fortissimo applauso alle mamme! E quindi l'inno del casale, un po' di brani per la mamma e poi un po' di movimento napoletano, tanto per stare in tema. I protagonisti naturalmente saranno i vostri figli di Camposano, dell'Istituto Virgilio di Camposano. Allora, grazie professore, pronto a coordinare il coro, eccoli qua tutti gli alunni della scuola dell'Istituto Virgilio di Camposano. E allora ci siamo, signori, cominciamo il spettacolo! Eccoli qua che salgono, mamma mia quanti sono, sono tantissimi! Il coro, il coro dell'Istituto Virgilio che ha realizzato anche l'inno del Palio del Casale 2017. Vai tutti i genitori, super applauso ai figli, vamo! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.